ragazzi il campionato è finito quindi rispondiamo un po di domande dei nostri fan la prima domanda quando è che si usa titanio quando si usa acciaio quando si usa alluminio quando si usano i materiali composti questa domanda richiederebbe ore forse giorni come risposta però cerchiamo di spiegare quali parti sono fatti di quali materiali il telaio è fatto in gran parte in materiali compositi si parla di un sandwich di carbonio e nido d'ape principalmente questa è la struttura base che deve reggere tutti i carichi tutte le prove le spinte i carichi di omologazione e anche fornire delle performance ci sono però altri elementi al di là del nido d'ape e della fibra di carbonio ci sono sicuramente i pannelli in zion che è un materiale antipenetrazione che si trova sulle fiancate e che evita che elementi come schegge molle parti metalliche braccietti delle sospensioni possano forare il sandwich di carbonio alluminio e andare a ferire il pilota questo materiale è molto costoso ed è un materiale balistico militare che sostanzialmente protegge dai proiettili quindi tutto quello che può essere assimilato a un proiettile poi ci sono i metalli i metalli sono principalmente nel telaio il titanio e l'alluminio allora c'è da dire che il carbonio non riesce a gestire bene i carichi localizzati quindi sia le filettature che le filettature sostanzialmente sono un carico molto localizzato perché ogni cresta della vite è un trasmette localmente un po di carico quindi il carbonio non gestisce bene perché localmente il carbonio è sia resina quindi plastica non non roba resistente sia fibra di carbonio a fibra corta perché quando c'è un punto localizzato fibra corta quindi senza scendere i dettagli non gestisce bene questi carichi quindi sono necessari degli inserti metallici questi inserti sono necessari sia per gli attacchi strutturali che siano l'alo le sospensioni il crash box anteriore e il motore sia per tutte quelle che sono le altre filettature che su cui si attacca la carrozzeria tutti gli altri elementi insomma e questi inserti possono essere fatti o di carbonio quindi una massa di carbonio con dei filetti riportati si chiamano kinsert sono dei filetti metallici riportati che servono per concentrare lo sforzo sul metallo e non sul carbonio oppure sono fatti di alluminio o principalmente titanio e negli ultimi anni si utilizza molto la tecnica della stampa 3d perché questo perché a volte noi dobbiamo fare un inserto con un volume ampio però non ci serve che sia pieno di materiale e per asportazione di trucciolo sarebbe impossibile togliere il materiale all'interno quindi si utilizza la stampante 3d che fa avere dei costi esorbitanti a questi inserti ma è la formula 1 ok per evitare di allungarmi troppo uscendo dal telaio abbiamo la carrozzeria la carrozzeria è fatta quasi tutta di carbonio e nido d'ape stavolta non nido d'ape d'alluminio ma nido d'ape di nomex cioè un materiale aramidico e questa carrozzeria è molto leggera ma comunque rigida ci sono poi molti elementi carrozzeria che sono fatti anche con delle schiume ad esempio le ali contengono all'interno delle schiume molto leggere ma molto resistenti che per motivi tecnologici le ali della formula 1 hanno una sezione molto ridotta e sarebbe difficile farle cave quindi si utilizzano queste schiume che vengono fresate sono schiume molto costose il processo di fresatura è molto costoso quindi è tutto molto costoso poi si utilizzano quando ci sono delle sezioni molto piccole ad esempio i bracket quelli che connettono l'ala col flap oppure quando ci sono delle strettoie lì si utilizza di nuovo o dell'alluminio o del titanio perché essendo una zona molto ridotta il carbonio i carichi localizzati come abbiamo spiegato non li regge bene e si romperebbe poi abbiamo tutti quegli elementi che sono il motore le sospensioni le sospensioni al motore sono fatti di metallo perché perché le sospensioni richiedono delle strutture non possono avere una fibra continua la sospensione perché va fresata va ricavata dal pieno quindi è necessario un materiale isotropo quindi che reagisce bene in tutti i versi e il materiale il carbonio non è un materiale isotropo se noi facessimo una una sospensione o una molla di carbonio sarebbe una sospensione una molla di plastica sostanzialmente con dentro un po di rinforzi carbonio ma che non sarebbe una plastica più forte del 20 30 per cento ma comunque lontana dagli standard e in questo caso quasi tutti gli elementi delle sospensioni sono di alluminio quindi gli smorzatori i rocker tutti i collegamenti diciamo i bilanceri ovviamente le molle sono solitamente fatte di acciaio per molle che è un acciaio speciale che è fatto apposta per le molle e si utilizza quello poi passiamo al motore il motore ha parti sia in alluminio che di titanio che d'acciaio un po è obbligato dal regolamento un po è obbligato dal fatto che c'è in ballo l'alta temperatura quindi i materiali compositi con l'alta temperatura non vanno assolutamente bene uno scarico il materiale composito sarebbe come fare uno scarico di cracker per farvi capire quindi lo scarico ad esempio è fatto di titanio alcune parti bielle e pistoni hanno un materiale definito da regolamento e comunque il materiale più utilizzato nel motore solitamente è l'alluminio poi ci sono tutti i materiali che riguardano l'elettronica quindi tutte le centraline tutti i cablaggi che sono solitamente fatti di rame o di materiali conduttori quindi metalli e poi ci sono le batterie che sono fatte con la tecnologia litio eccetera eccetera e poi ci sono le gomme che sono fatte di gomma anche alcuni elementi di carrozzeria sono fatti di gomma ad esempio le sospensioni vanno ad attaccarsi al telaio ma c'è una piccola copertura fatta di gomma con laminata è un materiale composto in realtà che serve per mantenere comunque chiusa la sospensione e questi qui sono i materiali principali poi ci sono delle schiume del poggia testa che serve l'ener core serve per dissipare energia quando il pilota sbatacchia la testa e questo solo per fare un riassunto generale dei materiali che si utilizzano nella formula 1 ora se io potessi fare una formula 1 come la farei e quali piloti sceglierei allora intanto c'è da dire che nessun ingegnere si pone mai la domanda di come faccio la macchina nel serie come la faccio bilanciata no si va in gallina del vento e si cerca di ottenere il risultato migliore non cercando di bilanciarla in un modo o nell'altro ma cercando di avere il risultato che oggettivamente è il migliore in assoluto c'è un simulatore che mi dice sta macchina qui io faccio il giro di pista in un minuto e 20 secondi con questa macchina qui faccio un minuto e 19 secondi non è una questione di più sottosterzante più sovrasterzante si cerca di fare la macchina migliore in assoluto quindi non pensate di dire fanno la macchina per verstappen fanno la macchina per leclerc no si fa la macchina perché sia la macchina migliore in assoluto il simulatore è oggettivo non guida il simulatore leclerc non guida il simulatore verstappen non guida il simulatore science è il simulatore quindi la macchina migliore è quella che dà riscontri migliori poi ogni pilota si può adattare si può può essere in grado di sfruttare al meglio la macchina ma la macchina non viene mai fatta apposta per un determinato pilota togliamoci di mente questa stronzata perché veramente non ne posso più come andremo a vedere poi verstappen perez la macchina non è fatta per verstappen semplicemente verstappen è un pilota più veloce di perez quindi se dovessi scegliere due piloti per come coppia chiederei verstappen perché dire che non scelgo verstappen sarebbe un'idiozia perché per quanto non mi sia simpaticissimo è il pilota più forte che c'è al momento come seconda guida il tifo rosso mi farebbe dire leclerc perché secondo me leclerc comunque più forte di science però alonso alonso è alonso vedere una coppia verstappen perché una scoppia verstappen leclerc leclerc sicuramente soffrirebbe verstappen è un pilota molto che soffre leclerc la competizione mentre alonso mi divertire da matto vedere alonso su una red bull perché sicuramente non sentirebbe il peso di verstappen si divertirebbe e forse sarebbe una sfida nuova per verstappen quindi diciamo questo sarebbe il mio sogno allora ogni tanto escono fuori voci incontrollate di dispositivi magici e dove trovarli adesso l'ultima notizia è l'incredibile anti dive che hanno tutti tranne la ferrari ora questa cosa io anche un po di difficoltà a rispondere perché talmente una cosa insensata che riparto da zero cos'è l'anti dive l'anti dive è un non è un elemento della sospensione o un dispositivo è un tipo di geometria della sospensione che evita che l'anteriore della vettura affondi in frenata questo perché perché quando c'è un trasferimento di carico a meno che il baricentro non sia sul suolo e il baricentro non è sul suolo e c'è un trasferimento di carico che tende a far ruotare la vettura rispetto al proprio baricentro questo è tanto evidente nelle moto che quando toccate il freno davanti la moto affonda immediatamente perché le moto chiaramente hanno un baricentro più alto di una vettura è anche evidente quando avete mezzi come i camion come i suv che quando frenano tendono ad affondare tanto davanti proprio per questa non è un problema è semplicemente fisica quindi come si può ovviare a questo problema c'è bisogno di qualche magico dispositivo in realtà no basta progettare una sospensione che abbia un centro di rotazione in un determinato punto più o meno all'altezza del baricentro e questo fa sì che il l'anti dive sia nullo in realtà scusate che il dive sia nullo in realtà non si vuole mai che l'anti dive sia nullo perché si creano problemi di vibrazioni all'anteriore e in più il fatto che parte del trasferimento di carico vada a gravare sull'anteriore fa sì che la macchina abbia più carico sull'anteriore di solito la frenata è sempre più caricata all'anteriore quindi questo ci fa ci fa bene è un vantaggio quindi che cosa dobbiamo fare ridurre il dive ma non annullarlo del tutto ora si dice che la ferrari non abbia l'anti dive o abbia un anti dive molto inferiore rispetto agli altri e il che secondo me è una cazzata pazzesca perché non c'è motivo per cui gli ingegneri della ferrari non siano a conoscenza dell'anti dive o che non sappiano che l'anti dive va in possesso in una certa maniera può essere una scelta quella di ridurre di avere meno anti dive quindi per mettere più a fondo della vettura ma se l'hanno fatto un motivo ci sarà di certo non è che cacchio ci siamo dimenticati l'anti dive no non funziona così ci sono persone che progettano espensioni il cui loro unico compito è creare una sospensione che ha tutti questi dispositivi all'interno che in realtà non sono dispositivi ma che sono geometrie che permettono di avere questi effetti un altro esempio è l'anti squat perché in accelerazione invece che cosa fa la macchina si siede dietro se voi avete una macchina molto potente a trazione posteriore ricordate che attrazione posteriore sentite che quando accelera se avete presente toretto in nell'ultima scena di fast and furious quando accelera con la sua macchina in penna e lo fanno anche le moto e questo è un effetto dello squat perché tutto il peso va dietro e la vettura affonda dietro ed è un'altra cosa che non si vuole perché soprattutto in queste vetture in cui il fondo deve stare sempre parallelo al suolo avere la macchina che fa così non è mai ottimale quindi si cerca di avere sempre un assetto più neutro possibile però anche in questo caso non è che la ferrari non ha l'anti squat tutte le vetture ce l'hanno dire che l'anno prossimo la ferrari avrà l'anti squat è sbagliato dire che magari l'anno prossimo potrebbe essere non lo posso escludere abbia un effetto di anti dive superiore a quello che quest'anno è possibile come è possibile che l'anno prossimo le clerk cambi colore del casco o che science cambi fidanzata colore del casco o che sbagliato Grazie a tutti.